E' arrivato un momento particolare, quale telecamera devo guardare? Faccio alla Funari, guarda, voglio guardare quella telecamera qua, avvicinatemi perché voglio che siate voi a dire il nome dell'intervista che facciamo al VIP di Quanzo Tutti nella nostra trasmissione, quest'oggi vi presentiamo l'intervista che ho realizzato con? Il Via Mezzanotte. Perfetto, a tra poco. Franca, quanto è importante un master per i ragazzi che partono adesso con il canto? E' importante perché i ragazzi adesso studiano, ce ne sono tanti che studiano il canto e lo fanno con serietà e vogliono farsi ascoltare da personaggi famosi nel mondo della musica e ho visto che i ragazzi sono stati contentissimi per cantare davanti a Silvia Mezzanotte che è un artista che tra l'altro non avevamo detto il nome e volevo farlo svelare a te, dunque Silvia Mezzanotte è l'ospite speciale di oggi. Silvia sei la protagonista, la docente di questo master. Quanto è importante per chi comincia a cantare, anche per chi magari canta da tempo, partecipare a un master fatto soprattutto da una persona che come te ha tante esperienze? Non so quanto sia importante, so solo che la mia volontà di condividere le mie esperienze con i giovani che hanno voglia di intraprendere questo cammino nasce dal fatto che quando io ero alla loro età questo confronto non esisteva e Dio sa quanto ne avrei avuto bisogno perché ho fatto tanti errori senza avere un confronto e senza sapere quindi come correggermi. Ecco, io canto ormai da tantissimi anni e vivo questo ambiente dal di dentro. La mia possibilità è quella di scambiare le mie esperienze con questi ragazzi cercando di raccontare loro esattamente com'è questo mondo nelle sue difficoltà, nei suoi pregi, nei suoi difetti perché spesso l'idea che hanno è un po' edulcorata dall'immagine televisiva che passa dai talent e da quant'altro quindi è un po' come aprire loro gli occhi coltivando però i loro sogni. Allora ascoltami, io mentre tu parlavi ti guardavo e ricordavo dei pensieri che facevo qualche anno fa quando poi Silvia Mezzanotte cominciava a calcare quello che era il palcoscenico nazionale e tu diciamo sei venuta alla ribalta delle cronache grazie a una sostituzione importante perché tu sei entrata con i Mattia Bazzar per sostituire una voce altrettanto importante che poi tra l'altro secondo quello che è il mio modestissimo parere lei sostituita, lei come si dice si è entrata a far parte dei Mattia Bazzar ma tra l'altro veramente brillando di luce propria però una persona che entra in un gruppo dove per tanti anni era stata una cantante importante quale Antonella Ruggero con quale spirito affronta una situazione di questo genere? Beh io mi sono fatta forza di una notevole dose di incoscienza prima di tutto della gavetta perché provenivo da quasi 11 anni di lavoro fatto nei locali, nei pub e quindi della mia volontà di emergere sapendo di avere nel mio paniere sia l'opportunità di cantare il passato dei Mattia Bazzar portandolo al pubblico però con la mia personalità sia di lavorare su tutto il nuovo, il nuovo che poi è arrivato con grandi successi come Brivido Caldo, Messaggio d'amore che Piero Cassano, Giancarlo Golzi e Fabio Perversi hanno poi scolpito sulla mia natura vocale e è abbastanza difficile ipotizzare che la grande voce di cui parli cioè Antonella Ruggero si presti a cantare una canzone come Brivido Caldo perché non è proprio nella sua natura vocale mentre invece fortunatamente nel mio percorso c'è, nel percorso vocale c'è la possibilità di cantare brani storici come Vacanze Romane come Cavallo Bianco cercando di rispettarne la tradizione nell'originalità. Allora ascoltami tu, parlavamo di esperienza, parlavamo di importanza delle esperienze anche no, vissute e replicate dunque poi distribuite agli altri come stai facendo tu adesso in questo master. Mi viene un attimino spontaneo chiederti l'esperienza di Silvia Mezzanotte per arrivare a quella che è poi diciamo così la perfezione vocale, io ti ho sentito cantare dal vivo, sono venuto a sentirti qualche tempo fa e ti giuro l'impressione che ho avuto è di sentire un cd, perché? Malissimo, cosa mi dici? Un cd nel senso che eri estremamente precisa e sono rimasto estasiato, io ero sotto al palco non mi sono mosso fino alla fine tra l'altro, dunque te lo dico con estrema convinzione. È importante oltre che lo studio anche la, come si dice, l'attitudine e la possibilità di cantare tanto? Sì, devo dire che adesso è un po' più complicato per il mondo giovanile perché non c'è più quel sottobosco fatto di locali che ti permettevano di andare a fare il piano bar per esempio o il karaoke, c'è ma molto in più stretta misura, quando invece io ho affrontato la mia gavetta c'erano tanti locali fortunatamente. A me è servito tanto ma prima di tutto mi è servita la preparazione tecnica, sulla base di quella preparazione tecnica poi anche tutto il lavoro fatto nei locali ha contribuito alla costruzione della mia personalità. Queste sono le due cose importanti. Sulla terza, cioè la perfezione di cui parli, sto lavorando, nel senso che sto andando a cercare la perfezione dell'imperfezione perché io sono una persona, ahimè, estremamente precisa e quindi cerco sempre di stare molto attenta all'intonazione ma la cosa che conta di più quando si canta live è l'interpretazione, è la capacità di trasmettere emozione, è la comunicazione e la comunicazione qualche volta passa anche da una nota stonata. L'importante è sentirsi, sentirla e lasciarla andare e quindi sto lavorando su questo in realtà, sulla capacità di perdonarmi quando una nota non è perfetta ma è sentita. Dunque una Silvia che continua a studiare? Continuamente, ma credo che faccia parte del mio carattere, della mia esistenza ma anche dell'accettare continuamente nuove sfide personali e di gruppo. Bene, allora in bocca al lupo noi ti ringraziamo per la disponibilità perché poi tra l'altro è stata veramente tanta, ti stiamo facendo ritardare il pranzo. Comunque ti abbandono ma prima di abbandonarti volevo che tu mi facessi un saluto speciale alla trasmissione che è Music Mania che ha bisogno di un augurio importante per poter andare avanti. Beh, il mio saluto, il mio abbraccio alla trasmissione Music Mania e a tutti gli amici che la seguono perché so essere una buona opportunità per il mondo giovanile o per tutti quelli che hanno voglia di cantare e non riescono a trovare una strada. Ecco, in questo caso per fortuna c'è qualcuno che dà loro voce, quindi grazie a Music Mania. Cari amici, cari telespettatori, siamo tornati, abbiamo ascoltato la voce autorevole e tra l'altro della bellissima Silvia Mezzanotte, voce importante del palcoscenico nazionale Grazie a tutti.